Buongiorno a tutti, siamo oggi qui con Mr. Merlo. Oggi un punto contro il Ligorna, molto importante, vi permette di rilanciarvi e di ritrovare dei punti in casa. Ti do sensazioni dopo questo match? Sono molto contento perché abbiamo fatto, finalmente siamo stati premiati dopo buone partite, perché secondo me la buona partita l'abbiamo fatta anche domenica Varese. E anche con la Vogherese in casa abbiamo sbagliato un paio di gol, abbiamo sbagliato al rigore, non eravamo premiati in questo momento qua, abbiamo cambiato qualcosina. Sono molto contento dell'interpretazione della partita, sono molto contento dell'esordio di Niccolò Gabrieli che ha fatto un'ottima gara. Tutti i ragazzi l'hanno interpretata bene, senza paura, pur andando sotto la prima palla che ha avuto Ligorna e noi se non ricordo male ne avevamo avuto un paio di mano, una di Cenci dove potevamo andare in vantaggio noi. Siamo andati sotto, la cosa fondamentale l'ho detta ridendo negli spogliatoi, che non abbiamo preso 2 a 0,47 al primo tempo perché ultimamente eravamo bravi in quello. E invece poi siamo rientrati con calma perché poi delle volte ci va della calma, con l'organizzazione, siamo riusciti a costruire la palla dove sono stati bravissimi sia Manno che Avi che Cenci a far gol e poi abbiamo avuto anche alcune situazioni dove potevamo andare in vantaggio. Loro alla fine ci hanno creato qualche apprezzione più che altro per i grandi chili che hanno, perché davanti sono veramente spaventosi tra tutti, però direi che l'abbiamo portata a casa con grande serenità e un punto che ci dà morale autostima. Partiamo di qui e andiamo avanti. Mister, tra l'altro un'apprezzazione da squadra anche con i cambi, poi si è sempre di più unito il tuo Fossano. Ti chiedo se è questo che vuoi per le prossime partite. Guarda, io tutti i sabati quando poi decido la formazione, mi piace sempre deciderla in una giornata di riflessione e serenità, mi rendo conto di dover non far giocare alcuni ragazzi che al di là dell'essere affezionato a loro, perché mi hanno dato anche tanto, tanti dell'anno scorso, ma anche quelli di quest'anno, che dici, cavoli, far star giù un giocatore del genere ti dispiace, però cosa ti dà? Ti dà la fortuna che come gli altri, faccio l'esempio oggi, Manno e Cenci stavano facendo una partita ottima, però pian pianino stavano calando, l'entraro De Sosa e Cattaneo sono due cambi importanti per noi. È entrato Ventre a posto il coach umano, abbiamo giocato con 2-2006, ho dovuto fare la scelta del portiere, anche lì a malincuore perché Ciro è un grande portiere, però Menino è stato bravissimo, Ventre è entrato, ha dato sprint, ha dato vivacità. Io oggi non l'ho fatto giocare della Giovanna, non l'ho fatto giocare Moratore che stava facendo bene, adesso è un momento un attimo di coach umano, l'ho fatto giocare Biancher, però tutti quelli che sono entrati hanno fatto la loro partita e hanno contribuito alla grande a portare a casa a questo punto. Mister ti chiedo ancora questo, ma adesso avrete una trasferta, poi due partite in casa compresa la torna infrasettimanale con la Sarremese, che settimane vi aspettano e cosa deve fare il Fossano per provare a portare a casa più punti possibili da queste tre partite? Allora, oggi per la partita, venerdì nell'ultimo allenamento, ci siamo detti che stavamo facendo tante cose buone, ma probabilmente non bastavano. Adesso abbiamo fatto qualche cosina magari di buono ancora ed è bastato per fare un punto, adesso dobbiamo essere bravi a fare qualcosa in più, come minimo per mantenere, fare il punticino che serve sempre, perché muove sempre la classifica, il morale. E appena avremo di nuovo una piccola occasione a cercare di portare a casa i tre punti, perché i tre punti è chiaro che sono fondamentali nel farti rialzare la tua classifica.